Già la croce c'è, quindi possono appendere. Io non ho scelto mai di diventare sacerdote, ma semplicemente ho seguito quello che era il sogno di Dio per me, perché Dio ha un sogno. Mentre le bambine della mia età giocavano con le bambole, giocavano a truccarsi, io giocavo a dire messa. Ogni patatina rotonda diventava un'ostia, ogni sciarpa diventava una stola con cui, diciamo, ripulivo la casa, o le bambole diventavano i miei parrocchiani e le mie parrocchiane. Pensate che ero così piccola che il lavello che doveva fungere da fonte battesimale era troppo alto, così battenzavo le bambole nel bidet. E ovviamente sono stata pioniera anche nello sposare le barbie o le bambole femmine tra loro, anche perché allora, a parte il marito di Barbie, come si chiama Ken, tutti le bambole, diciamo maschi, erano bambini. Il primo matrimonio omosessuale che ho celebrato è stato nel 2010 a Cormano. È stato in assoluto il primo in Italia a balzare alle cronache, prima ancora che lo celebrassi. Proprio per questo ricevetti delle minacce in forma anonima, firmate ovviamente con la svastica. Poiché Dio non ha sesso per definizione, non ha genere per definizione, può essere applicato alla relazione tra due esseri umani, ovviamente adulti. Sull'accettazione profonda che parte dal corpo, dalla corporeità. Il problema non è il rapporto sessuale o legato alla moltiplicazione o al fare figli, ma al tipo di relazione. Come si sostanzia, si storicizza questa relazione tra Dio e l'umanità nella Bibbia? Nella cosiddetta alleanza, che con Gesù trova il suo culmine. Ma non ha niente a che fare con il sesso, il genere o l'orientamento sessuale dei due contraenti, del patto o dell'alleanza, come la vogliamo chiamare. Quindi è ridicolo questa sessualizzazione del matrimonio. E' fatto stesso che si chiama il matrimonio. Noi preferiamo chiamarlo sposalizio, perché implica una madre tra due uomini. Una chiesa che si chiama cattolica, e cattolico vuol dire universale. Quando si esclude metà dell'umanità, che sono le donne per esempio, dall'ordine sacro, i divorziati, risposati dall'eucarestia, le persone omosessuali, non solo di orientamento, ma che vivono la loro relazione omosessuale, dai sacramenti, si è già dato in contraddizione. E' uno simbolo. Cattolico vuol dire universale, quindi non escludente, ma inclusivo. Bello, emozionante. Le due donne, due uomini. Grazie. 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 Grazie.